Buongiorno ai colleghi dell'ISPRA, del Sistema e degli altri enti che hanno voluto essere qui con noi oggi per questa giornata. Intanto vorrei oltre che salutarvi e ringraziarvi per la presenza, ringraziare i colleghi e gli amici del CNR per aver ospitato questa iniziativa oltre che per averci aiutato e supportato anche non solo nell'organizzazione della giornata ma anche nello sviluppo di questo core set che stiamo presentando oggi. Quindi grazie per la ospitalità, è sempre bello venire in una sede prestigiosa come questa. Il ringraziamento va anche ai colleghi dell'ISPRA che hanno lavorato per sviluppare questi indicatori e per l'organizzazione di questa giornata, i colleghi che fanno capo al servizio diretto della collega giunta, ovviamente anche il ringraziamento ai colleghi dell'area comunicazione e organizzazione della giornata e anche per la divulgazione della giornata stessa. Do subito io l'avviso relativo alla legge sulla privacy, sapete che questa è un'iniziativa trasmessa attraverso la nostra web television in diretta streaming, quindi coloro che non volessero essere ripresi o che non volessero che i propri contenuti vengano divulgati attraverso il mezzo televisivo sono pregati di comunicarlo alla segreteria organizzativa. Un ringraziamento ovviamente, ma qui lo faccio adesso e tenderò a non farlo più, lo faccio anche ai colleghi delle agenzie regionali perché ci hanno veramente aiutato e supportato, ma tenderò a non farli più perché ormai sono iniziative che noi sviluppiamo in un'ottica di sistema, facciamo tutti parte del sistema e quindi è un ringraziamento che è a noi stessi in qualche modo. Abbiamo voluto fortemente fare questo punto della situazione perché siamo assolutamente convinti della importanza di aver sviluppato un corset di indicatori di sistema. C'è una previsione di legge della 132 che a me è molto cara, tra l'altro mi è cara sia per sensibilità personale, sia perché da direttore ho un preciso obbligo di attuazione che riguarda la creazione comunque di un sistema informatico e informativo ambientale a rete. Ecco Marchesi è arrivato perfetto, quindi Luca vieni, vieni. previsione di legge che a mio giudizio rappresenta uno dei tasselli più importanti di ciò che dovremo fare e uno dei momenti qualificanti e costituenti del sistema, sia in chiave interna, quindi tra di noi sia in chiave esterna. Esterna ovviamente mi riferisco agli altri enti di ricerca, alle altre istituzioni, ma anche tutta la platea di cittadini che da questi dati omogenei, condivisi, possono trarre informazioni utili anche per semplice loro conoscenza. È stato un processo lungo, complesso, dimessa a punto di strumenti di acquisizione dati e di meccanismi di reporting che abbiamo cominciato ormai da oltre dieci anni. Avevano cominciato già i miei predecessori come Ampa e come Apat e poi abbiamo potuto attuare e sviluppare e attuare nel corso di questi anni, come dicevo, con il contributo fondamentale delle agenzie regionali e delle province autonome nell'ambito del progetto Centri Tematici nazionali, che ha portato ad una standardizzazione metodologica per la costruzione dei diversi corsetti di indicatori utilizzati dall'Istituto e dalle agenzie regionali e provinciali. Negli anni successivi, sempre in questo decennio, abbiamo però assistito ad una declinazione non omogenea da parte, scusate, nei diversi territori regionali di un indirizzo nazionale che pur avevamo cercato di dare. E la fotografia di questa disomogeneità, credo sia, rispetto al quadro normativo statale, credo sia visibile anche nella molteplicità e nella eterogeneità dei provvedimenti normativi che le amministrazioni regionali hanno di volta in volta emanato nel corso di questi anni. Situazione questa che aveva in qualche modo, forse compromesso è un termine eccessivo, però aveva fatto venire meno in qualche modo la convergenza che avevamo raggiunto con l'esperienza dei centri tematici nazionali, ma che ha portato a una presa di coscienza, a una consapevolezza sempre maggiore nel nostro ambito, di far emergere in maniera sempre più importante e significativa, la necessità di dotare il sistema nazionale per la protezione ambientale, che è vero è stato formalizzato con la legge dello scorso anno, ma che già a livello operativo era una realtà in qualche modo funzionante da diversi anni. Dotare quindi il sistema nazionale, cioè tutti noi, di strumenti condivisi e di metodologie coerenti per una gestione uniforme e condivisa dell'informazione ambientale su tutto il territorio nazionale. Esigenza che abbiamo quindi portato all'evidenza, che abbiamo condiviso, che abbiamo sentito e che abbiamo inserito tra gli obiettivi prioritari dell'area reporting del programma triennale 2014-2016, del programma triennale delle attività del sistema. Sistema per il quale il reporting costituisce un elemento chiave, forse direi l'elemento base chiave per la comunicazione dell'informazione ambientale, che oggi è stato recepito anche nel catalogo dei servizi del sistema e probabilmente stiamo lavorando tutti quanti insieme, quindi un lavoro che stiamo facendo tutti quanti noi presenti in questa sala, che probabilmente sarà anche uno dei possibili prossimi indicatori o target dei LEPTA, che è la grande scommessa della 132, la grande scommessa per tutti noi, la definizione dei livelli essenziali di protezione e tutela ambientale. Su scala nazionale questo strumento di cui oggi parleremo si propone come elemento di conoscenza dello Stato e della dinamica dell'ambiente italiano, delle pressioni che ne determinano le caratteristiche qualitative di vivibilità, delle azioni svolte per il suo controllo e per la tutela dei cittadini. La ricaduta che l'informazione ambientale sta assumendo è sempre più elevata, di questo credo ne abbiamo tutti noi una percezione molto chiara, direi costante e personale, perché sposta di fatto l'importanza che questo argomento assume all'interno del programma di lavoro del sistema, cioè il report in passa da momento di semplice divulgazione dei dati realizzati dall'ISPRA con la collaborazione delle agenzie ad elemento chiave dell'articolazione e dell'attuazione del sistema nazionale. Elemento chiave in cui coerenza e completezza dell'informazione devono per tutti noi rappresentare un elemento imprescindibile, non solo per le azioni tecnico-scientifico, per la nostra attività quotidiana, ma diventa un elemento imprescindibile di credibilità del sistema stesso. Un sistema di produzione di report ambientali a livello nazionale deve necessariamente fare ricorso ad una metodologia comune e standardizzata, per creare una base dati, ma anche e soprattutto un set di indicatori condiviso. Come pure condivise devono essere le modalità di elaborazione dei dati finalizzate al loro popolamento. Da qui la decisione che abbiamo preso come Consiglio federale prima e Consiglio nazionale poi, e oggi qui c'è il Vice Presidente, io porto anche, ma lo farà anche Luca, il saluto del Presidente dell'ISPRA e Presidente dell'SNPA, il Presidente dell'SNPA, il Professor De Bernardinis. Oggi, sapete, è anche la giornata mondiale dell'acqua, quindi avevamo una riunione a Palazzo Chigi e lui ha dovuto presenziare a quell'impegno. Quindi abbiamo, dicevo, istituito un gruppo di lavoro apposito, il GDL26, compendio statistico di dati indicatori ambientali, previsto appunto nell'ambito del programma triennale, coordinato dall'Istituto, dall'ISPRA e qui hanno partecipato diverse agenzie regionali, l'Emilia, Romagna, il Friuli, la Lombardia, il Piemonte e la Sicilia. L'obiettivo che i colleghi che hanno lavorato all'interno del gruppo di lavoro si sono prefissati di raggiungere è stato quello di realizzare un lavoro di comparazione e di confronto metodologico di tutti gli indicatori utilizzati dalle varie agenzie e dall'Istituto, finalizzato in primo luogo alla definizione di un corsetto di indicatori di sistema e parallelamente alla definizione di un'unica scheda metadati per tutto il sistema e all'indicazione dei contenuti minimi che una vetrina web di sistema per il corsetto indicatori di sistema deve possedere. È evidente che ci troviamo di fronte a un'operazione la cui complessità intrinseca è evidente, si tratta di lavorare tra realtà diverse, lavorare su argomenti intertematici e trasversali, quali quelli oggetto delle attività del gruppo di lavoro di cui vi ho parlato e permettetemi anche di aggiungere questo dato. Si è trattato di un lavoro complesso perché abbiamo dovuto tutti quanti noi cambiare un po' mentalità. Questo gruppo di lavoro, i risultati che presentiamo oggi, quello che faremo successivamente rappresenta anche un cambio di mentalità di ciascuno di noi. Come sapete io non vengo dal mondo della ricerca ma in questi anni ho potuto notare con l'occhio di chi non aveva questa competenza e questa esperienza che c'è una tendenza, io lo dico molto chiaramente, l'ho anche detto in altre occasioni, a considerare i dati proprietà privata, anche tra di noi operatori del sistema. Facciamo grande fatica a renderli patrimonio comune per tutta una serie di motivazioni che oggi non voglio toccare. Però voi sapete che questa è la situazione. Ancora c'è qualche resistenza, a volte per motivi nobili, a volte, bisogna dirlo anche con grande franchezza, per motivi non così nobili. E allora l'aver tutti quanti insieme deciso di elaborare queste metodologie e questo corsetto di indicatori è a mio giudizio un risultato molto importante perché denota un cambio di passo e di mentalità da parte di tutti noi, senza il quale non sarebbe possibile sviluppare azioni future. ma vi prego e permettetemi di pregare soprattutto i colleghi più giovani che vedo in sala di assecondare questo processo e di aiutarci a cambiare passo e mentalità rispetto a questi temi. I dati non sono nostri, né sono della comunità scientifica e c'è anche una legge che ci dice che li dobbiamo divulgare e condividere e su questo dobbiamo ancora vincere qualche resistenza. Concludo, dicevo che è un'operazione che ha evidenziato questo cambiamento di mentalità e anche uno spirito di sistema molto produttivo. Sono stati tanti momenti di confronto, di condivisione, anche di discussione, perché no, di critica costruttiva. Non è detto che tutti dobbiamo avere la stessa opinione, per quanto mi riguarda non mi piace il pensiero unico, quindi va benissimo che in una discussione soprattutto tecnico-scientifica ci siano opinioni diverse. Ma è importante lo spirito con il quale si è lavorato e con il quale io sono sicuro si continuerà a lavorare, perché ha garantito, alla fine, un allineamento costante delle attività del gruppo di lavoro in materia di indicatori, che sono di per sé intertematiche e trasversali, garantendo anche e monitorando e assicurando un'evoluzione costante e specifica di ciascuna tematica. Siamo qui per presentare quindi oggi le attività del gruppo di lavoro che hanno portato alla definizione di un corsetto di sistema che contiene 109 indicatori, che sono ritenuti da noi tutti, da voi che ci avete lavorato, fondamentali per un corsetto intertematico di sistema. 60 di questi indicatori, di questi 109, sono considerati da subito popolabili e altri 49 saranno popolabili da tutto il sistema nell'immediato futuro dopo gli approfondimenti metodologici e strutturali all'interno del sistema che stiamo conducendo e che riteniamo approfondimenti di poter svolgere anche coinvolgendo altre realtà al di fuori del sistema. E questa sarebbe, secondo me, un'ulteriore scommessa da vincere, cioè l'allargamento o il coinvolgimento all'interno, diciamo, del sistema di tutta una serie di altre realtà che fanno parte anche della nostra comunità, che in qualche modo sono anche qui rappresentate oggi, ma che costituiscono una base altrettanto fondamentale per avere completezza e certezza di dati e di informazioni. Io vi ringrazio, ringrazio anche la collega Giunta per avermi assistito, diciamo, nella presentazione. Vi ringrazio tutti voi per il lavoro fatto e soprattutto per quello che farete. Oggi è una bella giornata, per quanto mi riguarda da direttore, se l'avessi pensata sei anni fa, forse cinque anni fa, non sarebbe andata così e non l'avremmo neanche potuto organizzare, però è una giornata di partenza. È un punto di partenza, non è assolutamente un punto di arrivo, siamo all'inizio di un lavoro. Quindi raccogliamo tutti quanti insieme la sfida e andiamo avanti. Grazie. Grazie.